Centro di Documentazione Europea, Centro di Eccellenza Jean Monnet dell'Università di Firenze e Centro di Documentazione Europea dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole presentano un ciclo di interviste organizzate nell'ambito del progetto La Conferenza sul Futuro dell'Europa, un nuovo slancio per la democrazia europea, promosso e finanziato dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori, in questo ciclo di trasmissioni vi presentiamo una serie di interviste con ospiti illustri che ci esporranno alcune riflessioni e previsioni della conferenza sul futuro dell'Europa. E' con noi oggi il professor Colin Crouch, celebre sociologo, professore emerito dell'Università di Warwick Regno Unito, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Buongiorno. No, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Lei si è occupato molto di temi come sociologia economica, il neoliberismo, i problemi che deve affrontare la democrazia contemporanea. Io mi ricollegherei proprio al suo ultimo lavoro, Social Europe Manifesto, un tema quello dell'Europa sociale che si sposa molto bene con la nuova strategia dell'Europa, quella del 2021-2027 di cui molto ti parla, perché è una strategia che va proprio nella direzione dell'inclusione, dell'uguaglianza e dello sviluppo sostenibile. Quindi è di un'Europa che in qualche modo sta cambiando i propri paradigmi. Quali sono quindi le sfide, secondo lei, che l'Europa deve affrontare se davvero vuole diventare equa e sociale? Ci sono certe cose. Inizialmente dobbiamo dimenticare la volta verso un'Europa molto neoliberale che è successo dopo gli anni 90. Dobbiamo tornare al progetto di Jacques Delors e anche di Romano Prodi, dove quando facciamo nuovi mercati dobbiamo anche fare nuove politiche sociali, perché il mercato fa danni alla società e dobbiamo avere politiche per riparare. La prima volta è questo. Penso che questo sia succedendo. Secondamente l'Unione Europea può usare la sua potenza, la sua forza, come la zona commerciale più grande del mondo, di far alzare le condizioni del lavoro e dell'ambiente dappertutto nel mondo, nei trattati che fanno con altre parti del mondo. Terzo, il virus, il Covid, ci ha mostrato che abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Non siamo individuali, isolati, come secondo le ideologie neoliberali. Siamo tutti insieme, abbiamo bisogno di risorse in comune, non solo individuali, risorse pubbliche. Anche abbiamo visto l'importanza di persone come Badante e altri lavoratori con redditi molto bassi, l'importanza di queste persone per la nostra società. Dunque, dobbiamo tornare a una politica per più ugualanza e non meno ugualanza. Queste sono tre aree che tutti arrivano insieme per creare queste occasioni per una nuova Europa sociale e equa. Ecco, da un lato appunto vediamo questa nuova programmazione dell'Europa che va in proprio in questa direzione, dall'altra abbiamo fenomeni come per esempio quello di Brexit. Quindi com'è possibile in qualche modo puntare in maniera decisa verso appunto l'Europa sociale sostenibile evitando fenomeni, altri fenomeni come questo? Sì, perché è chiaro che l'idea principale, una delle idee principali del governo britannico per lasciare l'Europa, una è questa sovranità, questo mitologico concetto, ma più importante è vogliono abbassare le norme, particolarmente per il lavoro, finalmente e probabilmente anche per l'ambiente. L'Europa deve rimanere con un esempio al mondo di una società con condizioni di lavoro e ambienti avanzate. Dunque non devono accettare trattati sia con Gran Bretagna sia con la Cina che permettono all'altra parte di abbassare le norme affinché fare una concorrenza a livello basso. Ecco, secondo lei è possibile arrivare veramente a parlare di un'Europa sociale? Sì, era un concetto, l'Europa sociale era un concetto, mentre in periodi, particolarmente in periodi di commissioni di Delors e di Prodi, man mano hanno dimenticato questo. È importante che l'Europa offre ai cittadini non solo mercati, ma anche una società avanzata. E questo arriva possibile adesso. Vediamo, già vediamo come le società nell'Europa orientale fanno molto progresso dopo l'adesione all'Unione. L'Europa può fare queste cose. Ma c'è sempre una tentazione, perché i lobbies della parte delle grandi imprese fanno sempre una pressione contro questo, una pressione per imposte più bassi sulle imprese, per condizioni di lavoro più basse. E' importante che tutti che vogliono un'Europa più sociale mantengano la pressione sulle commissioni, perché i lobby dell'altra parte sono molto molto attivi, non sono silenziati. Ecco, la nuova programmazione dell'Europa propone effettivamente dei cambiamenti in questa direzione, nella direzione dell'inclusione, dell'uguaglianza, dell'occupazione. Sì, sì, certo. E anche l'ambiente. Probabilmente, o certamente, deve cambiare le politiche sociali del passato. I sistemi delle sicureanze sociali, per esempio, del passato, hanno accettato, perché le imprese abbiano bisogno dei lavoratori, dunque è possibile fare imposte sul livello dei lavoratori che hanno. Ma oggi questo è cambiato molto molto, perché le grandi imprese tecniche non hanno molti impiegati. Anche non devono essere né in un paese affinché arrivino attivi nel paese. Dunque, dobbiamo cambiare i modi in cui facciamo le finanze del Stato di Welfare. Dobbiamo accettare che non siamo più in una società industriale con grandi imprese in un paese individuale. Siamo in un'economia globalizzata, dunque dobbiamo trovare modi di finanziare e di regolare lo Stato di Welfare senza un'accettazione che le imprese stanno in un paese individuale. Dobbiamo fare nuovi modi delle tassazioni. Per esempio abbiamo questa idea per l'imposta sulle transazioni finanziarie. Questo è un esempio di un nuovo tipo di tassazioni sulle imprese che non fa un'oppressione fiscale sul livello degli impiegati. Colin Kraug, la ringrazio molto per essere stato con noi. Buona giornata. Siano piacere. Buona giornata a tutti. Centro di Documentazione Europea, Centro di Eccellenza Jean Monnet dell'Università di Firenze e Centro di Documentazione Europea dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole presentano un ciclo di interviste organizzate nell'ambito del progetto La Conferenza sul Futuro dell'Europa, un nuovo slancio per la democrazia europea promosso e finanziato dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Grazie. 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 Grazie.